Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia, studio Marco Gargini. Sulla statale 63 del Valico del Cerreto, traffico rallentato per un senso unico alternato tra Pallerone e il Bivio Perrometta in entrambe le direzioni. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero, lavori in entrambe le direzioni circa un chilometro e mezzo prima di Popiglio. Sulla Grossetofano, riduzione di carreggiata per una frana tra Alberoro e Montagnano in direzione Montagnano tra i chilometri 5 e 4. Sul raccordo Siena-Firenze, riduzione di carreggiata per lavori tra Bargino e Tavarnelle in direzione Siena. Sempre verso Siena, scambio di carreggiata per lavori tra Colle di Valdessa Nord e Colle di Valdessa Sud e chiusura dello svincolo di Colle di Valdessa Sud. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!